Quando ho fatto quel tiro non era più di dolenta, non mi aspettavo. E quello che ho fatto adesso è il record, cose che volevo da sempre. Adesso l'ho fatto, adesso è il mio. È un record del mondo che non si aspettava Daniel Gerini, l'atleta classe 1993, che nel corso del campionato regionale Marche di atletica leggera Fisdir ha trovato la misura di 32,16 metri nel lancio del disco, migliorando il precedente record dell'australiano Ugo Taneni, di 31,33 metri. Nella categoria C21 non ha rivali, non è né la prima né sicuramente l'ultima vittoria dell'atleta fabrianese che non smette di collezionare successi. L'azzurro può contare sul supporto di suo papà, che lo segue da anni nel percorso sportivo, e sulla Fabriano Mirasole, che crede nel suo potenziale. È 27 anni che è nata la polisportiva Mirasole. Noi facciamo fa-sport solo ai ragazzi disabili. L'inserimento ai ragazzi disabili a fare sport. È stata una scommessa, faccio un appello ai genitori che facessero fa-sport ai ragazzi con problemi. Il prossimo appuntamento saranno i campionati italiani assoluti a Molfetta, il 4 e il 5 giugno, ma Daniel punta in alto e ha in programma anche il campionato del mondo a Nimbork, in partenza il 19 giugno. Gli allenamenti si fanno più intensi, ma di mollare non se ne parla. Allora, lui fino a poco tempo fa si allenava due volte a settimana, facevamo solo i lanci qui, quindi allenamenti tecnici. Poi da due o tre mesi ho provato a intensificare un po' gli allenamenti in palestra, quindi con muscolazione, pesi e i risultati si sono visti. Daniel è un atleta che è fatto per vincere grazie all'allenamento e alla volontà di superare ogni difficoltà.